Musica La via dei Molini, così chiamata per la presenza di tali strutture ad oggi purtroppo non più attive. Il porta stendato infatti innalza lo stema di questo rione, il Molino. Dietro di lui la parca d'onore, da cui inizia, come vedete, il corpo del Bolteo. Si rappresenta la stagione dell'autunno, i vari lavori del periodo con attrezzi e vestiti dell'epoca di 1200. E' settembre e i ventiagliatori raccolgono i grappoli. Una ragazza aiuta a pigliare l'uva che poi andrà fino alla cantina per ottenere in inferno il prezioso mettere, il vino. Nel frattempo si prepara con fatica il grande spagnaio con il forcone di legno. Segue poi il mese di ottobre con la raccolta delle olive fatta a mano. L'olio, ingrediente essenziale della cucina maionese, fonte anche il divertito per questi contenini con i loro molini ad acqua. La cucina maionese, siamo quasi al termine del corteo, il novembre.